Il nostro canale, come molti altri, si occupa di questa questione del pianeta Nibiru. Questo pianeta che avrebbe un'orbita ellittico, o ancora meglio, questa teoria sta essendo approfondita, potrebbe essere un sistema planetario, una stella gemella, di cui questo Nibiru è uno dei pianeti che si allontana e si avvicina dalla Terra ciclicamente. Quindi, quando è nella fase vicina, appare nel cielo, aprendo una serie di fasi problematiche per la Terra che verrebbero chiamate la fine dei tempi. Occupandoci di questo problema, alcuni amici che seguono il canale ci domandano di una questione che sta girando, che Nibiru si sarebbe schiantato su Nettuno tre giorni fa. Quindi abbiamo aperto un'inchiesta per capire dove nasce sta notizia e abbiamo trovato un nostro amico Giuseppe Melchiorre che l'ha pubblicato che, incredibilmente, malgrado che questo pianeta fosse una minaccia per la Terra, si è schiantato su Nettuno e tutto è stato un lieto fine. Quindi l'Apocalisse ci ha girati e ora Nibiru rimarrà solo nei documenti e nella nostra immaginazione. Quindi questo nostro amico Giuseppe Melchiorre, insieme a noi, viene sicuramente attaccato perché è un ragazzo che si informa e comunica notizie sia di attualità e ha deciso di inserire nel suo repertorio queste notizie sul pianeta Nibiru e quindi sicuramente sarà attaccato come noi, ma questo Nibiru è una bufola, non è una bufola. Quindi vorremmo fare un po' il punto sulla situazione prima di approfondire questa questione di Nibiru. Nibiru è una teoria formulata da un sumerologo, Zacharia Seeking, che ha riempito il mondo di libri con questa sua teoria sia sulla questione del pianeta sia di questi suoi abitanti, Anunnaki. Noi presentiamo qua dei video di approfondimento del perché Nibiru, per esempio, Sikkim riteneva che il pianeta avesse un'orbita di 3600 anni. Però perché viene ritenuto una bufola? Perché degli accademici importanti si sono pronunciati contro Sikkim. Qui vediamo, per esempio, Lorenzo Verderrama, che è docente di assirologia all'Università di Roma, alla Sapienza, ha dichiarato che nel mondo accademico non vi è alcuna considerazione, quindi il Sikkim non è uno scienziato. Chi si riferisce a Sikkim come un qualcosa di reale è più che altro uno scrittore di fantascienza. Ed il suo nome, quale autore di opere pseudoscientifiche, è pressoché pseudoscientifiche, quindi non è riconosciuto dalla comunità, è una pecora nera. A prescindere dalla generale chiusura negli ambienti accademici, non esistono i lavori di Sikkim che possano ritenersi scientifici, per varie ragioni. Sikkim, come altri autori del genere, ricostituisce le sue teorie sulla traduzione di passi e non sull'interpretazione del testo. Quindi dicono che Sikkim ha costruito questa teoria traducendo in modo arbitrario le famose tavolette sumere, un patrimonio gigantesco di questi testi riferissi a migliaia di anni fa, che è arrivato prima a noi. Ma diciamo che questa posizione della Chiesa, comunque della scienza, fa parte di un filone di persone che sono cresciuti sotto, come noi, vedendo Quark di Piero Angela, il quale pensa che la scienza deve essere rassicurante, si deve vedere seduta nel selotto, la gente deve fruire dei risultati della ricerca scientifica seduta nel selotto e non deve mettersi strane idee di cose, di pericoli, di minacce, tanto che Piero Angela ha fondato la prima associazione di sbufalatori, quelli che volevano far credere alle persone che ci fossero magia, parapsicologia, quindi ha fondato una commissione per smascherare chi pubblica le bufale, prima ancora che questa parola venisse inventata dopo la nascita di internet. Ma poi ci sono invece quelli irrazionalisti positivisti come Pier Giorgio Di Freddi che accusano la Chiesa di essere uno di questi seminatori di paure lanciando l'idea che la Chiesa lo faccia per terrorizzare le persone, quindi atterrare dei fedeli e tenerli sotto la pressione di questo terrore della fine del mondo. Qui abbiamo presentato un video, ho fatto tutta una serie di video rivolti proprio a Pier Giorgio Di Freddi in cui dimostriamo che l'Apocalittica non è stata creata dalla Chiesa ma era nel mondo greco, quindi i filosofi greci studiavano la questione delle apocalissi quindi gli abbiamo fatto capire che questa sua affermazione questa sua affermazione da ateo non ha un fondamento ma diciamo che questa voglia di positivismo esiste basta guardare le dichiarazioni di Trump Trump che presidente del governo americano che dopo aver generato un gruppo intergovernativo sotto legge dell'ONU che ha detto che siamo nei guai quando una Greta si richiama fondamentalmente rilancia questo messaggio di una entità che ha avuto il premio Nobel l'ha accusa di una profetessa di sventura questa sindaca che c'è delle persone che non interessa niente vogliono vivere, divertirsi quando muoiono poi moriranno quindi è inutile preoccuparsi tutta la vita quindi ci sono molti che sono fondamentalmente di questa idea e anche la Chiesa è diciamo divisa in due perché abbiamo un padre Livio che riceve questi massaggi catastrofisti della Madonna che dice che l'Apocalisse è incominciata ma allo stesso tempo abbiamo un Papa Francesco che smentisce dice ma io personalmente non mi pronuncio non gli impedisco però dal mio punto di vista non mi fido di questa Madonna postina che lancia e poi ci sono anche dei comunicati su queste profezie dei video delle trasmissioni di TV2000 che smentiscono la veridicità di queste profezie ma da dove nasce questa idea della sumorologia della sumorologia ufficiale che questo Nibiru è un'invenzione e diciamo che c'è un eminente padre della sumorologia Giovanni Pettinato che si è pronunciato su questa materia e ha detto Nibiru è Giove Sikkim ha capito male ma che diciamo Sikkim non abbia capito male e che non sia un problema di traduzione basta leggere le diciamo i testi ufficialmente tradotti la cui traduzione è una è ufficialmente riconosciuta prendiamo per esempio questa epica di Erra Eishum che parla di Marduk che è riconosciuto che è Nibiru quindi vediamo questi due brevi testi e chiunque si rende conto che parla di un misterioso corpo celeste che si nesconde nelle profondità dell'universo e quando appare è profeta di sventure quindi vediamo questo questo uccello nella mitologia sumera rappresenterebbe questo pianeta che appare quindi vediamo i due testi inquisiti la traduzione ufficiale poi ognuno si può fare la sua idea quando ho lasciato la mia dimora Marduk le leggi del cielo e della terra si sono disintegrate l'agitazione del cielo mutava le posizioni dei copri celesti cambiate né io le ho ripristinate eppure vediamo un altro testo quando Marduk sentì questo fu pronta a parlare dicendo quando mi alzerò dalla mia dimora le leggi del cielo e della terra si disintegreranno le acque saliranno e spazieranno la terra il luminoso giorno si trasformerà in terbre la tempesta aumenterà e le stelle del cielo si scioglieranno quindi pensare che Nibiru sia un astro che è nascosto nelle profondità dell'universo e che quando nasce provoca dei guai è una interpretazione di buonsenso come si può affermare una cosa del genere che questa è Nibiru nasce da interpretazione di Zaccaria Sigm è una cosa che non ha senso e come può nascere questa cosa se si considera che gli specialisti essere specialisti in qualcosa spesso rappresenta un limite perché ci si concentra su questo argomento e si è portato a non avere una complessiva visione dell'oggetto di cui si occupa quindi se io sono uno specialista di somorologia e quindi perdo la visione complessiva di questa questione del pianeta Nibiru e vediamo qual è questa visione complessiva che il professor Verderramme dovrebbe avere per esempio basta prendere il filosofo Celso che era un duro oppositore del cristianesimo che si occupa anche di questa stella di Bethlehem la stella cometa tuttavia tu dici che la tua nascita si levò la stella ma io non la ritengo una stella di nove generi bensì del tutto simile alle altre hai detto che i caldei commossi della tua nascita vennero quindi sottolinea che i caldei che sarebbero poi questi astronomi babblionesi che abitavano nella terra dei sumeri quindi questa cultura sapessero che quando questa stella viene avvistata qualcosa succedeva e quindi si sarebbero diretti verso Bethlehem ingannati da una stella che non era niente di speciale quindi era universalmente conosciuto che c'era che i caldei aspettavano l'avvistamento di una stella che presagiva delle catastrofi e che questa stella ci sia stata praticamente lo testimonia Giuseppe Flavio che fu avvistata come quando sulla città apparvero un astro a forma di spada e una cometa che durò un anno quindi un astro a forma di spada quindi secondo Celso questo astro a forma di spada sostanzialmente ingannò gli astronomi caldei che pensavano che fosse questo pianeta che presorgisce le catastrofi invece era una normale stella e quindi cosa può succedere a questi specialisti che mentre dichiarano che Nibiru è un'invenzione che sì che mi ha realizzato con la traduzione fanno l'albero di Natale e non si rendono conto che quella stella che mettono sull'albero di Natale in realtà è proprio il pianeta Nibiru che non dovrebbe esistere quindi appendono una bufala in cima all'albero di Natale queste sono le cose divertenti che possono succedere nel mondo della scienza ma vediamo ci potrebbe essere dell'altro perché vediamo che questo professore è della sapienza vediamo che la sapienza nacque per la volontà di Papa quindi è una università che opera sotto l'ala profettiva e benefica del Vaticano quindi può darsi che più che esprimere dei pareri scientifici esprime ciò che il Vaticano ritiene sia meglio dire e non dire e quindi in questa diatriba di dire o non dire deve comunicare la volontà del Papa e dell'idea che le persone devono stare belle tranquille e non preoccuparsi di pianeti che minacciano la terra ma alla fine noi abbiamo finito per trovare questo testo questo racconto che i caldei leggevano per sapere che c'era un qualcosa che appariva in cielo che presaggiva le catastrofi e l'abbiamo fatto l'abbiamo trovato in questa Bibbia di Colbrin quindi una collezione che viene ignorata dalla comunità scientifica quindi la comunità scientifica non la legge proprio perché non ha i criteri che la fanno in modo che meriti di essere letta invece noi la prendiamo in considerazione perché anche se non ci sono le fonti ma se un testo che dà dei riscontri con altri eventi della storica può trovare una validazione noi ritengiamo che questo testo racconti dei resoconti antichi di storie realmente accadute quindi questo racconto racconta della presenza di questa stella una stella che si è trasformata in una grande luminosità ed è stato vedere è stato fantastico vedere quanto ha steso le corna e ha cantato quindi c'è una testimonianza di uno scritto che noi riteniamo antico che parla dell'apparizione e dell'ingrandirsi dell'avvistamento di un e poi questo diciamo avvistamento viene seguito dalle catastrofi che sono provocate però da un altro corpo celeste il distruttore che noi studiamo nel nostro canale quindi ora mentre vi faccio una sintesi qui in basso appare una riportiamo il racconto importantissimo che noi potete bloccare il video e leggerlo oppure leggerlo direttamente nel sito fetonte.it che abbiamo creato per raccogliere le traduzioni in italiano di tutti i testi che riguardano questa questione quindi c'è questo appare questa facciamo una sintesi poi chi vuole può leggere il dettaglio appare questo corpo celeste il narratore dice no non è il dio cioè il distruttore l'autore delle catastrofi ma un qualcosa che lo annunciava e quindi questo distruttore che cos'è noi l'abbiamo studiato in vari diciamo documenti che anche al di fuori della Bibbia di Colbrin quindi questi testi della Bibbia di Colbrin permettono di capire che questo distruttore è un colpo celeste di piccole dimensioni che sfiora l'atmosfera ed è ciò di cui parlava appunto questo profeta Gioele farò dei prodigi nei cieli sulla terra sangue fuoco e colonne di fumo il sole sarà cambiato in tene per la luna in sangue quindi diciamo questo testo smentisce ciò che è un'imprecisione vogliamo chiamare una notizia inesatta che circola che il distruttore sia Nibir no il distruttore è un'altra cosa ma è associato strettamente all'apparizione di Nibiru quindi vediamo che una prima identificazione extra Colbrin di questo distruttore il profeta Gioele annunciava quindi questo fumo e fuoco è questo astro che sfiora l'atmosfera tenendo conto che l'atmosfera è spessa non più di 10 20 chilometri se fosse un grande corpo celeste che sfiora la terra a 20 chilometri provocherebbe una collisione cosmica che distruggerebbe ambe e due i pianeti e questo invece sembra non succedere dopo il passaggio di questo distruttore la vita continua qui abbiamo che il distruttore Colbrin è chiamato Carro del Sole difetonte nella mitologia greca che fosse un mito poi c'è il mito di Tifone ma qui la cosa interessante c'è un ponte tra il mito e la storia cioè Plinio il giovane narra questo diciamo corpo celeste lo presenta come un qualcosa che ha imperversato sull'Egitto creando dei danni ma viene raccontato come un qualcosa quindi non ha distrutto la terra è stato abbastanza diciamo grave per le località comprese tra l'Egitto e l'Etiopia secondo Plinio il giovane poi qui abbiamo l'epopea di Gilgamesh che parla di questo mostro Kumbabba quindi perché questi mostri vengono poi siccome questo astro scompare all'orizzonte si racconta la mitologia racconta che degli dei o degli eroi li hanno vinti quindi ma abbiamo trovato questo pianeta Nibiru anche nell'Apocalisse quindi riteniamo che questo gran dragone rosso sia questo pianeta Nibiru che viene avvistato e quindi trascina e questi sono i sintomi quindi c'è la luna e il cielo si oscurano trascina le stelle questo distruttore che impatta sull'atmosfera qui ci sono le guerre e quindi perché trascina la pioggia di essere perché sembrerebbe che questo corpo celeste entra diciamo nel nel sistema solare quindi vediamo qui un altro racconto gli uomini dimenticano il giorno di distruttore poi quando gli anni passano certe leggi operano sulle stelle del cielo le loro strade cambiano c'è movimento di riquetezza non sono più costante una lunga luce rossa strappare nei cieli quindi e cosa succederebbe succederebbe che quando questo pianeta entra nel sistema solare specialmente all'interno dell'orbita di Giove che è l'indicazione di questa fascia degli asteroidi si comincia a funzionare come una calamita e attira a sé degli asteroidi e quindi questi asteroidi poi alcuni di questi possono abbattersi sulla terra e creando questi pioggi di asteroidi che vengono nominate nelle scritture quindi però una cosa è dire che un fenomeno esiste e una cosa è dire che incombe quindi tutti sono appiccicati a questo annuncio di questo arrivo di questo Nibiru basato sul calendario maia quindi è stato dato una grande enfasi che siccome alcuni non si sa chi hanno fatto dei conti hanno ragionato hanno fatto dei ragionamenti su un calendario e secondo loro questi conti convergevano nel 2012 tutto il mondo ha concluso che Nibiru doveva arrivare nel 2012 e quindi non è arrivato e quindi Nibiru è una bufala così ragionano le pecore cioè le pecore dicono uno non sappiamo voi sapete chi è chi ha tirato questa conclusione ha lanciato questa allarme sono delle persone che hanno fatto dei ragionamenti su un calendario quindi automaticamente per tutti Nibiru è una bufala perché perché doveva arrivare nel 2012 e non è arrivato ma in realtà alimentare il complottismo è la stessa chiesa perché non si capisce perché è andata a comprare a costruire un osservatorio sul monte Graham ha trasferito questa specula vaticana sul monte Graham dove c'è anche questo enorme LBT è un consorzio quindi diciamo perché il Vaticano ha bisogno di accedere ai dati di questo telescopio che si chiama Lucifer che sembra progettato per monitorare corpi celesti e rinfrarossi e poi anche questa sua reticenza di negare l'evidenza che queste profezie che da 50 anni circolano su questi tre giorni di buio riguardino questa catastrica questo distruttore e noi in questo video in questa serie abbiamo provveduto a sfatare quindi malgrado questa evidenza che questo Gioele che parla di prodigi nel cielo abbiamo dei programmi di TV2000 che è un organo ufficiale della CEI che dicono che i tre giorni di buio sono l'assenza di Dio nel cuore degli uomini allora tutte queste follie mediatiche di comunicazione hanno portato tutto il mondo a cominciare a seguire a cercare informazione alternativa ed è nato il complottismo che tutti sanno ma non parlano per non seminare il terrore la NASA nasconde i dati il Vaticano nasconde i dati e Putin sembrerebbe l'unico che è propenso a comunicare tutto questo dicono diciamo i pettegolezzi e quindi noi insieme a tanti seguiamo le informazioni alternative quindi sembrano fare un punto di riferimento questi astronomi siriani che hanno deciso di rompere il silenzio però non si presentano con nome e cognome quindi e presentano come dato questo cioè loro dicono non abbiamo bisogno di presentarci perché è evidente che il il campo magnetico della Terra è fortemente perturbato da questo pianeta quindi annunciano segnalano che l'inclinazione dell'asse terrestre si è spostata velocemente in vent'anni e quindi che questo potrebbe annunciare una caduta del campo magnetico terrestre poi quindi questi diciamo seguiamo questi anche degli amatori che dicono che l'informazione ufficiale non è più affidabile perché segue questa linea di non terrorizzare quindi seguiamo questi in monitoraggio degli effetti quindi per esempio seguono quante se stanno arrivando veramente più asteroidi ecco ma diciamo che questi parlando della notizia di Nettuno noi questi che seguono con attenzione ogni minimo dettaglio non hanno comunicato niente per adesso quindi non sappiamo notizie quindi quando Melchiorre comunicherà le fonti dove ha preso andremo a indagare quindi non sappiamo quindi mettete dei commenti noi l'abbiamo scritto di indicare le fonti che dicono da dove viene questa notizia che si sarebbe schiantato ma qui vogliamo concludere il video con una meditazione di tipo filosofico religioso chi ha ragione Papa Francesco o Padre Livio noi siamo seguaci di Gesù siamo simpatizzanti di Gesù ecco liberi simpatizzanti di Gesù qui abbiamo una playlist in cui esponiamo la nostra visione di cosa diceva Gesù e quali erano i suoi scopi e quindi il Vangelo può essere un punto di riferimento di come comportarsi vediamo che quindi nel Vangelo c'è una sezione che si chiama Piccola Apocalisse dei Vangeli che parla di queste cose quindi leggiamo cosa dice ma in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore le stelle caranno dal cielo e le potenze che sono dei cieli saranno scrollate allora si vedrà il figlio dell'uomo venito sulle nuvole con grande potenza e gloria ed egli allora manderà gli angeli raccogliere i suoi letti e i quattroventi dall'estremo della terra dall'estremo del cielo ora imparate dal fico ecco qui la parte importante imparate dal fico questa similitudine quando i suoi rami si fanno tenere e mettono le foglie voi sapete che l'estate è vicina così anche voi quando vedrete accadere queste cose sappiate che egli è vicino quindi i vangeli indicano invitano a cogliere i segni dei tempi quindi è una evidenza che il vangelo non dice di fregarsene no voi fate così state attenti per cogliere i segni dei tempi e anche questa frase i vostri fanchi siamo cinti le vostre lampade accese vediamo che è stata mistificata dalla chiesa è stata trasformata nell'esigenza di ricordarsi chi non ha visto il film di Massimo Troisi e Benigni in cui c'era questo monaco che urlava a Troisi ricordati che devi morire lui dice si si adesso me lo segno tranquillo non c'è problema quindi questa frase che invitava a tenere sempre sotto attenzione a questo fenomeno è stata perché lo dimostra che Pietro alla Pentecoste annunciava proprio credevo nell'imminenza di questi fenomeni vediamo sempre Gioele farò prodigine ciele sulla terra sangue fuoco e colonna di fuoco quindi parlava di stare attenti all'imminenza di questo fenomeno va bene ma una volta che uno sa qualcosa va bene ognuno indaga si fa i suoi studi e se li tiene per terra no anche qui il Vangelo parla chiaro poiché non vi è nulla di nascosto se non per essere manifestato e nulla è stato tenuto da segreto se non per essere messo in luce quello che io vi dico nelle tenebre dicono nella luce quello che ho udito ho detto per l'orecchio ho predicato sui tetti nessuno accende una lampada e poi la copre con un vaso o la mette sotto il letto anzi la mette sul candeliere perché chi entra veda la luce quindi se vogliamo estrarre dal Vangelo un comportamento da tenere quindi se vogliamo dire fa bene chi studia e divulga informazione su questi fenomeni è discutibile quanto volete ma è un comportamento che viene incoraggiato dal Vangelo grazie